ho appena finito di elencare un numero imprecisato di divinità sumere il cui nome sicuramente non veniva pronunciato almeno dal 3500 o 4000 avanti cristo che cosa è successo sono appena tornato da un cliente che mi ha fatto sudare letteralmente sette camice perché ha commesso un errore gravissimo durante un aggiornamento di windows un errore che purtroppo è stato commesso anche da alcuni membri della community e che vorrei che non si ripetesse mai più è un errore che può capitare nel momento in cui aggiorniamo windows ad una nuova build per mezzo di un'installazione pulita oppure proprio ne aggiorniamo la versione ti ricordo che una build è tipo la 23 h2 22 h2 24 h2 e così via mentre una versione è windows 10 windows 11 e così via ma che cos'è quest'errore come lo possiamo evitare e beh te lo dico subito e quindi se ti senti pronto iniziamo l'argomento che stiamo per trattare sembra essere stato studiato appositamente per suscitare la massima potenza delle divinità del tubo divinità che ho evitato accuratamente onde rabbonirle di invocare insieme a quelle sumere predette ma questo come ben sai potrebbe non bastare e quindi concentriamoci al massimo ed effettuiamo con tutti i crismi il nostro quotidiano rituale apotropaico disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va ma siccome la prudenza con le divinità del tubo non è mai abbastanza e mi è stato già per imperscrutabili motivi pulminato un video che parlava di questo argomento che comunque come vedrai non è assolutamente niente di che vorrei farti due raccomandazioni guardandoti negli occhi anche se so già che sono superflue la prima è di utilizzare questo programma che sto per mostrarti solo ed esclusivamente su macchine di tua proprietà e la seconda di utilizzarlo responsabilmente e adesso andiamo avanti per davvero va come puoi vedere diversi membri della community nel corso di aggiornamenti oppure di formatazioni del loro hard disk per reinstallare il sistema operativo sono rimasti vittime di questo trappolone di che cosa si tratta semplicemente e banalmente non avevano salvato il codice product key oppure non sapevano nemmeno dove reperirlo in passato ho presentato un software che ne consentiva la lettura ma purtroppo con le nuove versioni di windows non funziona più e così mi sono industriato per trovare una soluzione alternativa e naturalmente ho trovato un bel programmino facile facile che ci consente non solo di leggerlo ma anche di salvarlo cosa che ti sto per presentare e quindi rimbocchiamoci le maniche apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca digitiamo come sempre gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e facciamo come sempre riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it apriamo il sito e una volta aperto portiamoci in questa sezione in alto e cioè quella che si chiama downloads fatto questo scendiamo un pochino nella pagina fino ad individuare questo download qui e cioè quello che si chiama show key plus nel caso in cui questo download non fosse presente o non riuscissi semplicemente a trovarlo o non ne avessi voglia ti potrai portare qui in alto a destra cliccare su questa lente di ingrandimento e nella barra di ricerca andare a digitare ad esempio la parola show premi invio per effettuare la ricerca e vedrai che il nostro download cioè show key plus ti comparirà qui in alto clicchiamoci per andare a scaricarlo il download come sempre durerà pochi istanti perché si tratta di file molto piccoli e a questo punto potremo cliccare su questo pulsante qui per aprire la cartella dove abbiamo scaricato il file ma potremo anche andare a chiudere la finestra retrostante del browser che ormai non ci serve più questo punto tutto ciò che dovremmo fare sarà un doppio clic sul file che abbiamo appena scaricato quello che si chiama show key plus 1.0.7060 prendere tutto quanto il suo contenuto e trascinarlo sul nostro desktop fatto questo naturalmente potremo anche chiudere la cartella che non ci serve più ma prima di andare a vedere come funziona questo programma c'è una cosa molto importante che voglio mostrarti e no la cosa che voglio mostrarti non è il cioccolatino che mi osserva da alcuni minuti posato beatamente sulla mia scrivania con sguardo sorgnione e beffardo bensì il fatto che puoi se vuoi scaricare questo programma anche portandoti qui in basso sul microsoft store a questo punto sarebbe lecito che tu mi chiedessi e come mai non me l'hai fatto scaricare dal microsoft store ebbene la risposta è che il microsoft store ha come abbiamo scoperto l'abitudine di comportarsi un po come mandrake e ogni tanto fa sparire qualche file proprio come è successo con pc manager di microsoft e allora noi ce lo scarichiamo dal sito dove sappiamo che non solo lo troviamo sempre ma lo troviamo nella versione che piace a noi in ogni caso se volessi scaricarlo di qua ti basterà portarti qui in alto sulla barra di ricerca e una volta cliccato su di essa scrivere semplicemente show key plus esattamente come ho fatto io e cliccando sulla relativa icona potrei andare a scaricarlo ma adesso chiudiamo il microsoft store e torniamo a noi ora ci basterà aprire la cartella che abbiamo appena creato sul desktop all'interno della quale troveremo altri due file compressi quello che dobbiamo fare è scegliere quello più adatto al nostro sistema operativo o meglio show key plus x64 se avremo un sistema a 64 bit e invece show key plus x86 nel caso di sistemi a 32 bit nel caso in cui tu non sapessi se il tuo sistema è a 32 o a 64 bit potrai comunque usare show key plus x86 che va bene comunque per utilizzarlo visto che in questo caso non richiede alcuna installazione ed è portable mentre se andremo ad installarlo tramite il microsoft store verrà installato sul nostro pc come app dovremo fare un clic destro sul file che avremo scelto scegliere la voce estrai tutto confermare cliccando sul pulsante estrai e aprire la cartella al suo interno troveremo due file uno di questi è l'eseguibile che se vorremo potremo mettere anche su un pendrive e portarci in giro facendo doppio clic su questo file dopo aver accettato che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo potrai vedere alla voce installed key il tuo codice seriale o meglio il product key del tuo windows e se volessi salvarlo niente di più facile ti basterà fare un clic sul pulsante save scegliere una collocazione ad esempio io ho scelto documenti cliccare sul pulsante salva e ti troverai all'interno della cartella documenti un file di testo che una volta aperto colterrà tutte le informazioni sul tuo sistema ivi ricompreso il tuo product key ma attenzione perché è possibile che utilizzando questo programma tu non trovi installato sul tuo pc alcun product key in questo caso niente paura molto probabilmente sei il fortunato possessore di una cosiddetta licenza digitale che cos'è una licenza digitale è semplicemente una licenza che si lega indissolubilmente al tuo hardware e viene automaticamente riconosciuta da windows nel caso di reinstallazione pulita oppure di formattazione del disco quindi assolutamente niente paura e vai avanti tranquillo ed ora non mi resta che passare ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che fare due cose la prima è salutarti e darti appuntamento alla prossima e la seconda mangiarmi il mio cioccolatino che penso di essermi meritato io Grazie a tutti.